Il governo Draghi, la tecnopolitica serve a stringere le viti in modo tale che non ci si possa liberare più. Quindi per questo i prossimi mesi sono decisivi, il prossimo anno. E per questo occorre una reazione. Poi se mi si dice come si fa a costruire un soggetto alternativo, non lo so. Quello che si può fare è fare un lavoro di cultura politica critica. Costruire un soggetto politico non è che non lo so, lo so. Ma ci vogliono soldi, organizzazione, una classe di recente. Allora, e idee? Idee ce le abbiamo forse. Una classe di recente, ci stiamo lavorando, alternativa? Il problema sono i soldi e l'organizzazione. Però faccio presente che un tempo, sì c'erano i media di regime, la parte erano mille volte meglio, il Corriere della Sera dove scriveva Pasolini o la radio di Bernabè che ha educato il paese. Sarà stata monocolore, ma ha educato il paese ad alti livelli culturali. Di cui invece la cultura popolare sta andando a rapengo. Ma poi c'erano i giornali dell'opposizione. C'era un'opposizione. Il dramma che stiamo vivendo oggi è che non esiste l'opposizione. Si dibatte e si confligge per determinare un indirizzo politico che non è precostituito e non è determinato da poteri indiretti, finanziari, tecnocratici. Ma è appunto fondato nella volontà popolare, principio della sovranità democratica. Che sarebbe il fondamento, si badi, di legittimità anche dell'operato di questo Parlamento e del governo. Il governo Draghi in teoria, tutto l'impalcatura istituzionale, si poggia su quel principio di legittimità, su quel fondamento, che però di fatto, per la sua stessa esistenza, per la sua stessa natura, e poi lo conferma proprio, lo nega. Cioè, noi abbiamo un governo che si fonda, dovrebbe fondarsi su un principio che in realtà nega o forse persino disprezza. È finito il momento populista? Secondo me no. Nel senso che le domande, i bisogni, le ragioni del populismo stanno tutte lì. Lo vedremo quando ripartirà, credo tra non molto, tra un anno, ma già si sentono i prodromi, il mantra dello spread, del debito, la strategia dell'attenzione finanziaria. E quando, soprattutto, arriveranno i tagli da fare, l'aggressione al risparmio privato degli italiani, che è il vero tema, anche di certe mire europee. E nuove tasse, probabilmente, anche sul ceto medio, ceto medio impoverito. A quel punto voglio vedere che reazione, non ci sarà reazione, credo che reazione ci sarà. Cioè, di fronte a un Monti II, la vendetta, più o meno camuffato, ci saranno gli stessi effetti. Forse persino incattiviti, perché delusi dal fatto che il tentativo, diciamo, precedente di reagire non ha avuto successo. Il bene che cos'è? Ursula, Greta, questo è il bene. Figurine ridicole o perniciose. Non certo del bene. E poi questa moralizzazione della politica è ripugnante, perché serve a coprire e a nascondere il fatto che in realtà si persegue una politica profondamente reazionaria, retriva, che disattiva alla radice la Costituzione italiana nella sua progettualità sociale e democratica. Hanno scavato un baratro fra la Costituzione e la realtà. Questa è la verità. Fra la Costituzione e la realtà, l'effettività, come dicono i giuristi, c'è un baratro, un abisso. Chi l'ha fatto? In questi trent'anni la classe intelligente di questo paese. che si è votata al vincolo esterno. Dai primi anni novanta, questo è accaduto. O no? Quindi, io sono anche più severo nel giudizio. Penso però che tutto ciò abbia una genealogia delle cause e penso anche, mi illudo forse, che comunque ci sia un limite allo schiacciamento dell'umano, appunto. E quindi mi attendo, se non la giustizia divina, che in qualche modo si manifeste una reattività, non la resilienza che è essere subalterni, raccontandosi di fare qualcosina di buono, aggiustarsi nel male, ma una vera resistenza. Quel crollo del sistema politico, che è conseguenza dell'esaurimento della spinta propulsiva della Costituzione, della democrazia costituzionale presa sul serio, perché non c'era più un progetto politico, porta a che cosa? Al fatto che un pezzo significativo della classe intelligente del paese decide di vendersi al vincolo esterno. Decide che l'unica cosa che c'è per l'Italia è il vincolo esterno. E questo significa anche andare sul Britannia. 15 giorni dopo, capace. Andare a vendere il paese. Cioè, significa aver maturato un giudizio tragico, naturalmente in Italia, e pensare che non c'è nessuna speranza, nessuna prospettiva, se non diventando un protettorato, mettendosi nelle mani di forze esterne, che stavano allora, erano montanti e dominanti. Questo è un tradimento della democrazia. Molto semplicemente. Quindi, se si vuole, c'è una genealogia, si può fare una genealogia. Quello che stiamo vivendo a radici lontane, secondo me, ma significative. Perché quello che stiamo vivendo è, stiamo vivendo è, sono i rantoli dell'Italia del vincolo esterno. O meglio, è il fatto che l'Italia del vincolo esterno, stretta in una camicia di forza autoritaria, porta i rantoli della democrazia. Mettiamola così. Se mai riuscissimo a far nascere un'alternativa, bisogna sapere che si diventerebbe fastidiosi parecchio. E quindi bisogna avere la forza di essere coerenti e di tenere il punto, e di tenere botta. Il che significa avere una classe dirigente complessiva di qualità. non affidarsi appunto a un singolo, né prendere gli improvvisati. È una grande questione. tutti quelli che vogliono cambiare oggi hanno il problema di avere, di sapere come sostituire chi lavora solo per l'establishment o addirittura per forze esterne all'Italia. Ma devi avere il personale per sostituire. Io non dico che sia impossibile, ma ci devi pensare prima. I licenti popolari una scossa l'hanno anche data, ma chi ha ricevuto il mandato non era attrezzato. Per essere chiari, i Cinque Stelle. La Lega stessa aveva dentro di sé un equivoco. Forse più attrezzata a amministrare, ma basata su un equivoco. E comunque tutto ciò non è a sinistra. Allora, si può pure chiamarla in un altro modo, ma certi orientamenti di fondo, certi coordinate che sono quelle della Costituzione, del Costituzionismo Sociale e Democratico, bisogna averle, tenerle. Quindi come dire, manca tanto. C'è uno spazio. Però questo spazio che non è occupato e non è coperto, secondo me non bisogna pensare di coprirlo con operazioni di nostalgia dello 0,1%. Bisogna avere il coraggio di andare in mare aperto anche a agganciare la trasversazione. Cioè, quali sono i voti da recuperare? Sono quelli della stenzione, i delusi del momento Cinque Stelle e probabilmente anche quelli che a un certo punto hanno pensato che pure la Lega poteva essere una speranza. bisogna andare con tutti quelli che stanno facendo proteste a Firenze per esempio ora di recente per le chiusure aziendali. Cioè, quindi in questo senso bisogna anche mettere insieme realtà e esperienze diverse, temi diversi, ma che hanno un filo conduttore comune. E questo forse può fare massa critica perché effettivamente la sussunzione sotto un gran capo populista al di là dei problemi che comporta non mi pare che sia all'orizzonte almeno. E allora forse come dire favorire bisogna fare che dalla pluralità venga fuori un'unità, un soggetto unitario. Tutti quelli che rompono le scatole? No! Persone serie e attrezzate. Beh, da lì deve nascere una classe dirigente nuova che abbia anche il coraggio di porre una sfida persino spirituale. Cioè, io ho detto, ho parlato prima di caffè, ma bisogna anche poi presentarla in un modo tale che sia proprio una, come dire, una rivoluzione spirituale. oltre che etico-politica e materiale, no? Quindi da questo punto di vista la frattura, la rottura con quello che c'è deve essere radicale. Altro che è l'antagonismo, è proprio dire chiaramente che l'establish è un nemico che crea le condizioni e lo spazio per poter agire. Poi devi avere tu il filo da tessere e questo è il compito nostro, cioè di ragionare, di studiare, di formare, di selezionare, di essere, insomma, di non incorrere negli errori di altri. grazie a tutti i nostri, grazie a tutti i nostri,